Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e sono qui sempre in compagnia di Marco88 e siamo qui di nuovo su Spyro Knights. Abbiamo tagliato una piccola parte introduttiva in cui abbiamo parlato con un tizio che ci ha spiegato della base diciamo perché noi siamo precipitati su questo pianeta ad isolato dobbiamo capire che cosa facciamo qua che ci ha spiegato in pratica che questo mondo ha una base sotterranea cioè la popolazione della superficie c'è amichevole ma ha una base sotterranea perché funziona tipo come un orologio questo mondo ha dei meccanismi interni e dentro ci sono quella specie di furetti, criceti, quello che abbiamo incontrato la scorsa volta ti ricordi Marco? che quelli sono cattivi e quindi ci daranno fastidio. Poi ha detto che hanno trovato una città un pochettino più grande a cui possiamo arrivare per portare energia tra l'altro questo NPC dovrebbe essere quello che porta l'energia e quindi dobbiamo raggiungerli a quella città là. In pratica c'è una città sotterranea... scatole. No hai capito niente. Quelli c'è una popolazione che vive sottoterra tipo dei nani no? Che sottoterra sono questi clockworks si chiama. Ah qua è la forge ma non mi interessa il suo forge. Ci sono questi clockworks sottoterra no? Che sono come dei cunicoli e... Mentre la superficie c'è amichevole noi dobbiamo andare alla città in superficie. Solo che dobbiamo passare da sotto per arrivarci. Cioè da sopra non possiamo... Abbiamo lasciato il tizio sopra. Eh già. Ciao ciao tizio. Oddio ha perso l'ascensore. Eh eh. E dicevo e quindi noi dobbiamo passare da sotto per poi ritornare sopra con un altro ascensore da un'altra parte. Quindi ci fa ripartire dal punto della scorsa volta ma dovremmo fare credo una strada differente. Vabbè adesso capiremo un attimo. O probabilmente dovevamo fregare prima le energie e dopo riportargliela. Sì esatto. Nel scorso episodio abbiamo in pratica fregato l'energia e dobbiamo portarla a questa città di sopravvissuti tra virgolette. Anche perché ti ricordi nel scorso episodio che c'era il console di comando che era danneggiata? Forse era per quello che serviva l'energia. Ah ma qua ci fa partire tra l'altro da un punto diverso. Siamo un altro piano probabilmente. Oh. Prima spacchiamo un po' di cristalli. Ma sì magari c'è qualcosa di interessante da prendere. Oddio aspetta. Ah ma questo tizio è tosto. Sto random. Già. Anche questi. Ah il solito amico vaso. Ma te lo funzioni anche con la pistola. Non capisco perché uno debba lanciarci il vaso. Perché è divertente. Aperto andiamo. Aspetta che mi frego le monetine. C'è il pulsante famiglia qua. Sembra l'icona quello film da vedere in compagnia di un adulto. POM. Vero? Già. Ah il tizio si è teletrasportato random. Oddio qua c'è qualcuno di tosto vero? Aspetta facciamo prima esplodere via la roba perché. Sì. Meglio. Ah ecco vedi questo qua sono i tizi cattivi ma non mi ricordo come si chiamino. Razzwog. Ah vuoi andartene con quest'altro artefatto? Boh. Ah vuole farci esplodere. Io gli direi anche. Pirla se fai esplodere noi. Ah glielo dà. Gli dà quel coso. Ah ecco. Ah lui dice me lo prendo e vi faccio esplodere lo stesso. Oddio. Che gentile. Ecco finito il gioco siamo morti. Siamo sopravvissute. Però ci ha rubato il coso. Dove dobbiamo andare di qua? Penso che dobbiamo uccidere di di nuovo esplosione mangiata. Aspetta I've had the mage attacking left shift più right mouse. Oddio. Cosa vuol dire left shift più right mouse? Cerca di non farti bruciare forse. Ah è per schif... tipo per correre left shift più right mouse. No non mi funziona più. Ah sì. Mi sono fatto bruciare un fracco comunque. Anch'io. Occio. Ah ma è esploso solo quello. Ma perché ci vai giù di violenza tu? Scusa un attimo. Perché sono un guerriero. Vabbè anch'io ma ci sparò addosso. Io sono un range. date a me la mitraglietta potente. Dardo sti qui con la mitraglietta super potente. Perché non ha dato a noi la mitraglietta super potente? Ah dobbiamo sparare altissimo qua. Probabilmente dovrebbe essere un... Oddio. Una ricompensa la mitraglietta potente sai. Sì. Guarda che stile. La voglio io la mitraglietta potente. Io sono un range. Date a me la mitraglietta potente. Le spade le date a Marco 88. Già. Tanto non so se ti ho raccontato che giocava anche a World of Warcraft. Sì ma forse ne parlavi lo scorso episodio. Prima che mi registrassimo lo scorso episodio. Perché sei andato nel fuoco? Così per abbrusturirmi un po'. No avevo visto una moneta. Facciamo una griglia. Ah è là la moneta. Ma come c'è? Arriviamo. Oddio. Stupidi robottini facciamo affette. Io ho trovato un defense up. Anch'io. E per ora come ce ne usciamo? Dico scusa il pulsante l'abbiamo premuto. Ah ok sei aperto di qua. Vieni. Dove sei? Da stare là a divertirti con random. Abbiamo una missione da compiere Marco. C'è il pulsante da guardare con i genitori. Papà? Papà? Stavo lasciando ancora fuori random e sei teletrasportato. Ma random si teletrasporta? Ah questo si sposta. Ah no ma dobbiamo andare di là credo sai? Perché qua è chiuso. Dobbiamo passare di qua. C'è una chiave. Aspetta ma la chiave mi sembra di averla presa. No c'è qua la chiave. però devi venire perché sennò se chiudo il pulsante non puoi più passare. Ma sta seguendo me sto random. Chiudilo fuori che ti ha fuori. No. No. E se prendo questo? Ah ecco la chiave. Ho la chiave. Ho la chiave. Ah aspetta che poggio la chiave. Sì un attimo sto aspettando di prendere a questi. A fare i curatori. E mi porto via il souvenir. Ma che tanto stiamo a full vita? Vabbè comunque andiamo in là. Tu porta la bomba. E io porto la chiave. Bomba. Che tanto c'è come trasporta lui le chiavi proprio. qua è chiuso. Un altro pulsante da vedere con i genitori. Vieni papà. Ah c'è sto pezzente qua. Oh mi sono portato la bomba da casa ma ce l'aveva anche lui. Razzvog. Siete ancora qui. Questa artefatta è mia. Non avrete mai il suo potere. Devo distruggermi da solo. Va bene distruggersi se ne sei capace. Devi distruggersi da solo. Oddio cos'è che fa sto pezzente? So solo che gli ho lentiato una bella bombata. Ecco sparagli una bella bombata qua. Oh madonna addosso a me Cribbio. Non l'ha fatto apposta. Ma come non l'hai fatto apposta? L'hai fatto appositamente proprio. Perché lo sta caricando? Ma stai zitto stupido. Criceto troppo cresciuto. Ma no perché si è spostato? Ecco. Oddio fuoco e fiamme. Vieni qua bello di mamma. Perché ho aperto la posta? Oh. Ci hanno regalato di nuovo delle bombe. Una. Oddio. Io sto pensando ai piccoli qua. Mentre l'altro ci è brusto liscio. Dai che è quasi morto. Sei l'abbiamo tirato giù. Adesso possiamo riprendere questo artefatto spero. Dai sto giro lo prendo io. Che brutto però guarda. Ah qua c'è un tizio parlante. Recon module. The order never. Perché ho l'inventario sempre pieno? Ah. A me non dice niente dell'inventario invece. Ma perché questo? Si è teletrasportato. Ah rendo niente. Grazie mazzetese. Penso che avremmo. Boh. Sì. È una cosa piuttosto. Non posso dire personalizzata perché ha ringraziato pure. C'è una doccia hai visto? Adesso ci facciamo un bagno. Dove? Ah no. Vabbè ci laviamo lo stesso. Secondo me si ossida tutta la roba che abbiamo addosso però sai. È il fuoco che purifica come dice Ragnaros. Pagnaros. Insomma. In inglese fa schifo. Si vabbè. Oddio chi è tutta sta gente? Tira lì giù. Tira lì giù. No sono mici guarda lì attraverso. Ah è vero. C'è una casa qua. Ma forse devo dare la cosa a sto tizio. Aspetta che vorrò dargli l'affare. Ah sì. E adesso ci parla. Si dice che è un luogotenente dell'ordine della spirale. Un luogotenente fatto con i pezzi di qualche stufa. Esatto. Ah gli devo raccontare tutta sta storia. Gli raccontiamo tutta sta storia. Sì sì sì. Questo sarà molto interessante. Il nostro campo a Haven è giusto davanti. Non ti preoccupare degli altri rescue camp. Li abbiamo salvati tutti. Vabbè. Ok. GG. Abbiamo salvato tutta quella gente. Tu ci pensavi di salvare tutta sta gente portando una batteria qua. Abbiamo lasciato fuori di nuovo il nostro. Ma Randon è di nuovo fuori. Ma sei un pezzente Randon. Non sai starci dietro. Ho sbloccato un achievement mi dice. Advance now. Ho aumentato. Tu hai sbloccato gli achievement. Avanza di livello. No. Avanza adesso. No ho sbloccato qualcosa di armatura. Eh. Dice achievement armatura. Ah è quello. Ah poi mi dice. Dress for success. Non solo difesa ma anche condizioni di stato. Ti aumenterà la percentuale di probabilità di salvarti. Ah missione completata. Sì. Rank up. Oh sono diventato un apprendista. Prima cos'è? che è un pezzente. Scusa. Accetto. Sono un apprendista. Tu sei ancora una recluta. LOL. Io sono un apprendista. Sono un apprendista. No. Non voglio quei. Forgia. Così posso forgiare? Scusa. Ho degli available. Sword pow. Posso forgiarlo più forte? Ah sì. Ok. Rano. Ah è livello 30. C'è 33. Protogun. Forgiamo anche la protogun. A livello 30. Eh ok. Protobomb. Forgiamo anche spiraled crescent helmet. Ok. Stiamo forgiando tutto qua. Spiral culette. No però non mi ricordo più se stavo usando quello il Vita Suite. No forse stavo usando il Vita Suite. Vabbè. Noi potenziamo tutto no Marco? Intanto siamo ricchi. Bah sì. Dai anche lo scudo. Non lo uso mai lo scudo. Via. Però dell'inventario non mi dice niente. i? Ah c'è un fencing jacket che mi è dato. Ma è normale. Ah no c'è un Vita Suite infatti. Non avevo lo spiral culette. Elmo ne ho due. Ho ciclopscaps. Questo dice che mi dà più cose. Però non mi piace tanto ciclops. Equippa. Ma che schifo dai. Dai. Guarda che boruto che sono. Ma hai visto che schifo. Ma ragazzi. Sono un ciclope. Dai. Rimettiamo quello di spiral claire crescent. Eh. Quella roba là. Ho tre spade. Robo Wrecker. Io invece sono povero. Mi piace questo. Slime Sword. Ah. Facciamo questo. Dai. Equippa come arma primaria. È troppo stile. Sa fare. Materiali. Ma non mi frega niente i materiali. Chiudi sta barata. Guarda che sexy che sono con sta fare. Oddio. Mi sta parlando Randon. Ah ok. Mi dice come sparare le bombe. Ah ok. Dice ci troviamo poi a Haven. Addio. Stupido tizio. Ma ha detto che se ne va. Scusa. Vattene. Ma guarda che mi sta sempre dietro. Sto pezzente. Vabbè. Io direi che forse abbiamo registrato abbastanza. Tu che dici? No. 16 minuti. Vabbè. Possiamo andare ancora fino a Haven. Aspetta un secondo. Poi vedo qualche dato interessante. E forse siamo arrivati a Haven. Esatto. Portiamo. A Havensburger. Quello di puzzle. Ma vuoi che era? Tipo percorre. Eh vedi. Com'è che la visuale è cambiata un po'? Boh perché forse è una cosa molto... Ah poi torna normale. Ma... E questi tizi cosa vogliono? Guardi. You should get inside the town walls. Ah. Loro controllano qua. Vabbè. Cosa sono sti morti? Ah. Vedi i tizi cattivi sotterranei. Sono questi affari qua morti. Ma secondo me tu devi fare comunque la missione. Quella di parlare con il tizio. Guarda poi dopo nell'elenco delle missioni. Perché... Ma sto tizio è enorme. Cosa sta a fare? Activity. Guardian Knight. Perché dicevo... Io sono apprendista e tu sei ancora recluta. Ah. Dice che ci stavano aspettando. Lol. C'è un muro invisibile. Ok. Siamo entrati a... Boh. Questo Haven. Havensburger. Loading. Sono sempre dei caricamenti. Guarda c'è un uccellino. Hai visto l'uccellino? Ma da quanto è che stiamo registrando? È 16 minuti era prima. Credo che possiamo... Sì, adesso che entriamo in città possiamo anche, credo, stoppare. Sì. Stoppiamo dalla città qua. Da questo amico... Eh, dalla città qua. Tra l'altro sembra una roba tipo Turkmena. Così sti tappeti in aria. O no? Niente contro i Turkmeni, eh. Se abbiamo uno iscritto Turkmeni è un po' per lui. Sì, o mi sto guardando intorno? Ah, tu sei già entrato? Aspetta, tu... Oddio, cos'è che dice? Cora. Sì, ce l'hai fatta, mazzetesse. Sono contento che sei arrivata qua. Penso che arrivo anch'io. Mi sa che sono ritornato in città. Ho preparato un paio di missioni che ti aiuteranno a acclimatare. Dove, dove caspita sei? Non ti vedo. A me c'è l'ingresso. Ah, ma c'è un fracco di gente all'ingresso. Scusa un attimo. Stranieri. Ah, gli abitanti di Haven sono chiamati stranieri. Ma scusa un attimo, siamo noi gli stranieri. Ah, hanno un'apparenza intimidatoria, ma se noi ci aiutano. Ah, anche gli uccellini della città li apparece. Io ho delle brutte esperienze con gli uccellini, con Magica. Il video non è ancora uscito mentre registro, ma quando lo vedrete, questo video, avrete già visto anche l'azio. Ok, ci dice tante cose. Io non ti vedo. L'energia è essenziale per... Gear. Supply the pot. Travel. Non ti vedo. Energy symbol. Ma mi sta dicendo un sacco di cose sta cora, di amine. L'energia può essere ottenuta con... Ah, ok. Insomma, è tipo da pagare l'energia. Ok. Sì, mi ha detto sì, hai completato la missione di Haven. Ah, adesso ci sono un po' di missioni a Muzzo, proprio. Ma io non ti vedo manco più. Scusa, eh... Guarda, sto pass... Sto passando sotto il... Cos'è? L'arco... Il biscotto qua, la tavoletta... Ma no, è una tavoletta del water sta a fare qua. Sto arco di ingresso. Dove sei tu? Marco, dove sei? Un attimo. Marco, se ne è andato e non ritorna più. C'è uno che dorme qua, sei tu. Go to the camp. Dove sei? Ma che camp? Qua siamo a Haven. Allora, perché... Vabbè. Aspetta, vediamo se... Tu non sei a Haven. Guarda quanti uccelli che volano. Ma come volano questi uccelli? Sembrano... Degli elicotteri bugati. Ma dove sei? Ma che... Ma che... 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 Sti uccelli. Guardate che guardo nella lista amici. Com'è F6? Cordoba... Beh, sei il rescue camp. Perché? Come faccio ad arrivare da te? Non mi ricordo più. Ma scusa, tu non sei entrato qua in città? Sì, ma non mi ha... Vabbè, io direi che possiamo staccare qua e ci troviamo poi quando ci troviamo. Ecco. Cioè, ci troviamo off camera. Ok. Allora, da... Ok, facciamo così. Da Marco88 e... Mazetess. È tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao! Ciao!